Ciao a tutti ragazzi, dopo una lunga giornata di lavoro e di allenamenti, eccoci qua con il quarto episodio del Play4Win Eeeh, qua mi ritrovo un pacchetto che neanche io sapevo di avere, ci sono rimaste infatti Penso che sia perché ho prenotato il gioco, ma questo account non lo usavo davvero da tanto Tanto troveremo le solite merdine, vediamo Porca troia, porca troia, porca troia, porca troia Mamma mia, e vabbè questi qua serviranno davvero tanto alla squadra Qui elimino la divisa del Galatasaray per fare un po' di crediti Allora decido di scaldare i tre taccanti che ho trovato Questo Rivier per fare un po' di 300 crediti Li, Dong, Guk, Usuk, My Dick e Kunani E questo qui lo mettiamo in squadra, Mbengue Ok Come vedete ci siamo fatti 967 crediti e decido di comprare Asamo A per 550 crediti Una stella sinistra della Juve molto potente Qua invece riesco a comprare Isla per un prezzo davvero molto basso e questo è un ottimo acquisto Questa è la mia rosa che si è migliorata, devo dire Sarà sempre molto difficile mangiare le partite ma adesso vedremo di far bene Finalmente, finalmente un avversario alla nostra pinchia che panchina che c'ha Porca puttana Ma vaffanculo Tu sei un figlio di troia, tu sei un figlio di una grandissima puttana Nata fra i maiali, puttana Che cazzo mi fai spiegare i contratti Figlio di puttana Sei un grandissimo e merita testa di cazzo Vai a fanculo Con affetto Ciao Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Mamma mia Anche lui ci ha dei giocatori bronzi No Quell'Aube Mayang lì ha un grandissimo testa di cazzo Questa partita la deciderà quel Aube Mayang Asamoah la mette in mezzo Vai, vai Trete Sergio Flocari Alla prima In gol Tutti a fare Toro seduto No Prendila, prendila, prendila Ma che cazzo fai Ma che cazzo fai Ma che cazzo fai Ma Mamma mia Mettila bene Mettila bene Vai, 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 vai Destro Rete, rete Che gol Porca troia No 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 Ma e che cazzo di portiere ciò Ma Porca di quella puttana Oh God Don God Oh God Mannamia Vita del cazzo, porca troia Ma tu che cazzo fai a Michael Jackson? Figgio di una puttana in culo da mamma No, 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 no Porco di quella puttana in culo In culo te la mettono, affanculo, va Vai affanculo Però baci e non ci tornare mai più Proprio non ci tornare Vai con il treno di Howard, sette e sette quarti Come cazzo era? Vai affanculo Portiere del cazzo, lo devo cambiare sto portiere del cazzo Oh ma sei molto originale, mi han detto E tu e il tuo Michael Jordan del cazzo Ma tu ti rimpalli, li ha vinti Ma che cazzo fa? Ma io porco troia, io me ne vado Ciao Finita, una batosta anche in questa partita Sette a due Lo sapevo che quella Obamayang del cazzo Sode di Michael Jackson Dominava la partita Bastardo E qui acquisto Mirante a 350 crediti Acquisto spero anche Sì, acquisto anche la Brin Difensore centrale del Palermo cileno Giocatore d'argento mediocre Elimino Gutierrez perché mi ha fatto girare letteralmente i coglioni Nella partita precedente Metto Mirante Grazie Maria Buon figli Il nostro buon figli Vai Carmona, vai Carmona, vai Carmona, vai Carmona, vai Carmona, vai Carmona Porca troia Rete Mattia destro porta in vantaggio la futita Attenzione, Flockari, Flockari, Flockari Flockari, ha visto destro, destro Rete 1-2, pazzesco Mattia destro Attenzione, ancora destro, 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 destro Destro, mettere in mezzo 3-0 Sergio Flockari Adesso si ritira Perfetto Mamma mia, 10 per 4 giocatori Comunque pochi crediti perché la partita è durata solo 19 minuti Ma arrivano 3 punti importanti Per tirare sul morale la squadra Ciao ragazzi L'episodio termina qui È la 1 e mezza di notte Quindi devo parlare come un gay omosessuale Ci vediamo al prossimo video Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Grazie a tutti E al prossimo video Bella Grazie a tutti